E cosa c'è di più bello, e chiudo davvero qui, per esempio, che andare in giro per il paese e vedere un ragazzino di 5 anni che ti dice ciao sindaco, guardate è la cosa più bella del mondo, perché vuol dire proprio che c'è questo riconoscimento del ruolo, questo riconoscimento del fatto che per quel bambino lì, che non ha ancora visto niente, che non ha visto cosa è successo a Roma, che non ha visto cosa è successo all'astensionismo dell'Emilia Romagna, vuol dire che per quel bambino lì la politica è qualcosa di bello ed è qualcosa di bello nello spirito, allora se noi riusciremo a mettere politica, scuola e fede in questo senso insieme in questo partito, secondo me faremo il più grande favore che possiamo fare all'Italia, proviamoci.